Allora, ciao a tutti gli amici di Gamesurf, questo che state per vedere è la mia primissima volta in cui avvio Orcs Must Die 3. Allora, innanzitutto, che gioco è? A mio modestissimo avviso questo è, come serie, uno dei migliori tower defense che siano mai stati fatti. Quindi parlo naturalmente del primo, fantastico, e del secondo, spettacolare. È un gioco che ha delle idee semplici, assolutamente semplici, con la logica dei tower defense, ma allo stesso tempo è divertentissimo, oltremodo. Orcs Must Die 3, che adesso andiamo a vedere nelle opzioni, deriva dall'esclusiva per Google Stadia, che naturalmente, finito il periodo di esclusività temporale, ha permesso a tutti di arrivare... Ok, vediamo se c'è qualcosa come italiano, che non ci fa schifo. Ok. Salta, space, attacco... Sì, ok. Adesso sarò sicuramente un po' arrugginito con la serie. Dicevo, quindi, hanno fatto il primo e il secondo capitolo, poi hanno provato a fare un capitolo che si chiamava Orcs Must Die Unchained, solo ed esclusivamente, tipo free to play, che è finito malissimo, dopodiché hanno fatto l'esclusiva del terzo capitolo per Google Stadia, e poi adesso ce l'abbiamo qua, con noi. Quindi proviamo insieme a vedere che... ciò che accade. Allora, vediamo insieme. Ci sono le sfide settimanali. Ah, ok, dopo andremo a vedere cosa caspita significa. e la campagna principale. Allora, c'è anche il livello di difficoltà. Bene. Nemici più grandi e più deboli. I livelli di difficoltà non mi pare ci fossero negli altri capitoli. Si può fare, gioca in singolo, invita un amico, ospita partita o trova una partita. Allora, innanzitutto noi andiamo a selezionarci questo livello di difficoltà qua. Andiamo a farci un trova partita. Nessuna partita, anche perché noi lo stiamo giocando effettivamente un po'... Facciamo ospita partita? No, giochiamo in singolo e chi se ne frega. Ce lo facciamo un po' più difficile. Adesso vi faccio vedere quali che sono le meccaniche del gioco in sé. Sono molto semplici. Voi di fatto avete dei portali da cui appunto escono questi orchi. Prima di fare uscire dei portali questi orchi, voi potete posizionare queste trappole e naturalmente evitare che loro giungano al punto di fuga. È davvero divertente massacrarli perché si esplodono, li rallentate, cioè succede veramente di tutto ed è paurosamente fantastico. Adesso vediamo se naturalmente il terzo capitolo mantiene le premesse dei primi due. In co-op, secondo me questo titolo offre il top delle prestazioni del gioco in sé. Adesso andiamo a capire. C'è anche un po' di filmato che adesso tra un po' saltiamo. E' la novizia più contenta dell'ordine. In canale, la magia delle brecce. Non so se ne va conto. Arco lungo, magico, schioppo potenziato. Ah, ok. Allora, intanto carina questa cosa perché già sta cambiando le carte in tavola. Allora, nei giochi precedenti, nei primi due capitoli, ma più che altro il secondo che diciamo ha introdotto una serie di cose voi potevate scegliere alcune armi e immagino anche qui così come alcuni, come si dice, trappole che per bloccare e uccidere i nostri orchi che poi a loro volta potevano essere potenziate. Naturalmente nel secondo capitolo avevate possibilità di prendere tutto quello che volevate. Qui invece bisogna già fare una serie di scelte quindi arco lungo, magico che mi piace il discorso dello schianto verticale molto bella questa cosa o lo schioppo potenziato che anche questo mi fa impazzire. Abilità speciale e levitazione mi sembra una cosa fantastica però lo schioppo devo dire ci sono molto, molto affezionato però mi piace l'idea dello schianto. Ah ok, possiamo scegliere il cambio in qualsiasi momento allora via di schianto verticale che a mio avviso è il più divertente. Allora qua adesso vi fanno vedere come funziona ma un po' me lo ricordo anch'io. Qua sulla sinistra vedete quelle che sono le monete. Le monete servono appunto per ogni volta che voi posizionate una trappola vi costa un tot. il grimorio iniziale effettivamente prevede che voi scegliate un tot numero di trappole una volta che adesso all'inizio probabilmente ne avremo pochissime e solo quelle ma poi via via che il gioco va avanti voi negli altri almeno sbloccavate altro equipaggiamento in modo tale che eravate voi a scegliere quello che era il vostro equipaggiamento base iniziale poi naturalmente il costo va ovviamente ha la sua logica. L'obiettivo in alto è i nemici che passano per la breccia voi dovete fare in modo tale che non arrivino almeno 20 nemici entro la breccia. Se ne passano 20 voi avete perso se ne basta solo uno e voi passate. Naturalmente prendete punteggi diversi prendete negli altri almeno c'erano i teschi i teschi erano una sorta di valuta che permetteva di acquistare poi i potenziamenti delle varie trappole adesso facciamo un bel continua no non abbiamo così tanto bisogno allora vedete che qua adesso vi fa vedere una volta c'era semplicemente un'ondina qua vi fa vedere quella che è la trappola cioè qual è il giro questa è la porta vi fa vedere tutto il giro vedete che in alto a destra vi fa vedere anche come funziona e arrivate direttamente alla breccia è il primo il più semplice e quindi poco c'è da fare allora premendo G questo succede tutte le volte voi avete quattro ondate vedete in alto che ci sono quattro ondate generalmente quando aumentano le ondate più di tot forse anche qua ci sarà la pausa voi avete le ondate quindi tra un'ondata e l'altra potrebbe essere che abbiate il tempo di fare le cose con calma oppure dovete fare le cose molto velocemente perché le ondate arrivano quasi subito dopo quindi dovete stare sempre molto attenti perché ogni volta che voi fate fuori i nemici queste appunto voi guadagnate immediatamente del denaro quindi potete farlo durante la partita stessa adesso noi andiamo subito a posizionarci questo possiamo rivendere allo stesso prezzo questa trappola quindi è sempre cosa buona allora all'inizio ovviamente dove voi avete corridoi molto stretti zone del genere è sconsigliato mettere di qua e di qua perché è andata a sprecarlo all'infinito quindi meglio sempre fare una cosa del genere al contrario ha senso rallentare i vostri amici non abbiamo più ok quindi lo facciamo con tutto quello che abbiamo a questo punto vedete abbiamo speso tutto ciò che potevamo andiamo di uno vedete si spara vorrei capire come funziona ok così si carica a doppio salto lui scatena in basso il colpo bisogna anche stare attenti perché loro ovviamente vi possono anche colpire scateniamo l'orda veramente il divertimento in questo gioco è assolutamente vedete in alto che stanno arrivando loro sfonderanno cerchiamo di prenderli in testa il velo di difficoltà ovviamente è sempre crescente per ovvi motivi vediamo ah eccoli qua vedete che li stordiamo un attimino questi saranno naturalmente tutti gli orchi classici singoli vedete che adesso abbiamo già 6 secondi per l'ondata successiva abbiamo guadagnato un po' di denaro però non è che ci lasciano tantissimo tempo ci sono poi varie tipologie di orchi ci sono i giganti ci sono quelli super veloci che generalmente vi fregano perché passano sopra tutte le trappole non riuscite magari a beccarli e sono quelli che poi riescono a infilarsi nella breccia io su questi vorrei sperare di fare perfect score o quasi vedete che siamo già all'ondata 3 proviamo a non mettercene altre di trappole magari guadagniamo qualche soldo in più adesso magari può magari ce li mettiamo nell'ondata 4 mettercene altre di trappole un po' di vedete che se non si sta molto attenti il rischio è naturalmente questo e io rischio davvero di morire male perfetto e vedete che ci lasciano comunque un po' di preparazione per la prossima orda dove ovviamente ci sarà il mondo intero di attacco e noi andiamo belli dritti non lesiniamo nulla non ci interessa fare troppo i raffinati probabilmente sarebbe forse bastato un po' meno però guardate nonostante tutto ma con la scusa che sono anche a corridoio questi si ricaricano e poi arrivano assassino siamo riusciti a finirlo easy easy vedete che c'è già la possibilità in base alla valutazione di pigliarci teschi e quindi come nell'altro gioco vi offre la possibilità ecco di di farvi potenziamenti ti sei venuto con il primo no allora sicuramente questo allora nell'altro avevate due potenziamenti probabilmente qua invece vediamo un attimo teschini ho 13 aumenta ulteriormente il danno però io direi che se scegliamo di andare avanti ah eccole qua vedete che ci sono anche i bastoni quegli arcani che belle che sono cavolo le trappole armi fantastico gli eroi gli eroi che si sbloccano gli eroi particolari quindi andiamo a metterci qualcosa anche qua ma io direi che il muro di frecce per non sapere né leggere né scrivere ce lo potenziamo un po' al massimo eh anche qua andiamo a potenziarci un pochino ok storia vediamo anche tanto i capitoli i capitoli sono 18 chissà quante varianti ci sono ci facciamo un altro un'altra partitella così andiamo a vedere quello che succede nel prossimo e poi allora qua stavolta le cose si complicano perché ovviamente se la avevamo unicamente una direzione cioè una sola direzione che portava guarda che bella comunque la grafica un pelino è migliorata qua dovremmo naturalmente andare a stare molto attenti perché il rischio se sbagliamo è di disperdere cioè dobbiamo sicuramente disperdere disperdere le trappole su più corridoi questo è pacifico e di conseguenza dobbiamo anche stare attenti alle scelte che andiamo a fare quindi per esempio in questo specifico caso io direi scremiamo questa possibilità perché è vero che li colpisce entro quest'area ma poi vanno dritti gli spuntoni e poi colpiscono un po' tutti quindi questa potrebbe essere una buona soluzione e poi qualcosa di generico tipo una qua magari una qua e a questo punto visto che ne abbiamo quelle da due qualcosa che possa interrompere i nostri amici non so se ho fatto bene adesso scateniamo l'orda e pian piano andiamo a capire magari sarà sbagliata ma intanto abbiamo capito su cosa abbiamo sbagliato che vale comunque molto ecco tenete conto che gli orchi tenderanno a seguirvi quindi magari li potete anche pilotare un pelino perché loro cercheranno di uccidervi potete pilotarli un attimo su un discorso di che ne so portarli dove volete voi e quindi vediamo due per adesso lo mettiamo centrale poi vediamo il piacere della perfezione in questo tipo di titolo è davvero c'è la possibilità quindi di fare tutto perfetto è importante perché aumenta ancora di più il divertimento e la possibilità di sbloccare più oggetti quindi non è semplicemente un lo abbiamo fatto bene ma ok adesso ci fanno riflettere un secondo allora noi potremmo posizionare ma queste costano veramente tanto e a me le cose che costano tanto non mi piacciono preferisco mettere un po' più cose allora posizioniamole dove possiamo gestire un po' meglio la situazione allora tanto blocchiamole blocchiamoli sicuramente un pelo di più così ne possiamo mettere altri due e a questo punto io direi uno di qua e uno di qua speriamo ovviamente che non ci arrivino però se ci arrivano naturalmente il colpo con la balestra cioè il colpo con l'arco è gratuito il colpo singolo ma potremmo decidere di usare il triplice colpo ok passato tutto abbiamo altro di nero ah ci lascia anche un po' di tempo vabbè ormai meglio concentrarsi sicuramente su uno e poi quando arrivano gli altri perché necessariamente vedete che loro appena vi vedono tenteranno così facendo loro vi seguono voi intanto vi colpiscono e si ricaricano anche tutte le varie trappole che è la cosa più importante e naturalmente adesso possiamo sfugarci più o meno è l'ondata 5 ok no fottuto bastardo mamma mia stavo per perdermi uno ho fottuto sto lavoro ecco qua abbiamo fatto no non è perfect perfect bisogna affrontare il perfect è anche col tempo probabilmente esatto non so bene perché probabilmente l'ho lasciato libro 1 non è stato abbastanza veloce nel farlo cose del genere ma ma la cosa la cosa bella ovviamente è la possibilità di fare e rifare per poter sbloccare ancora più teschi ancora più teschi significa sbloccare ancora più cose eccetera eccetera naturalmente negli altri la cosa che a me piaceva tantissimo è la possibilità di che ne so potete bruciare un tot di potenzialmente poi riutilizzarle ancora per altri potenzialmente che a voi magari piacciono di più queste sono libere scelte questo è un po' il gioco adesso ci diamo un po' di tempo per provare le varie mappe ma direi che all'apertura è tutto come nel classico gioco grazie a tutti e al prossimo video e ovviamente dovete continuare a seguire game surf grazie ciao